Ti faccio una bella gemetta poter dire, non lo puoi dire, perché qualcuno pensa che il terreno ha disegnato una casetta delle poste, ma non c'è vero, allora posso dire di aver disegnato un pacco postale, un pacco, un pacottino, un pacottino, no, qualcuno capisce entrare senza nessun pacottino che dice che il pacottino sei tu, allora che devo fare, ora sei qui, rilassati, no? E' una festa il bruno, sogniamoci, vediamo qualcosa, ma sì, ci togli? Ma sì, sinceriamoci, sogniamoci alla taccia di qualcuno, ghiaccio bellente, una metta di limone, una metta di limone, ghiaccio, non ho preso ghiaccio, non lo sapete, questa città di ghiaccio senza ghiaccio, uso la gin, acqua di sorriaca, due ricolette, una fetta di limone, bel gin! E' ghiaccio? Troppo proletto, sei squadrato, è rimasto acqua gin! Mamma mia! Ma sei veramente elegantissimo! Ecco la verità, mi resta sempre così quando ho fatto lavoro, e sono il sabato della domenica che deve essere un uomo di più a fattenzione, che faccio, mi faccio i pantaloni? No, no, no! Di nuovo primer da stratrime! Era a per anticipare la festa? E che ci sta all'isщё con la vita! Finne stagione no! Non, prima non sono un bello! E comunque, soffi che alla fine stagione ci sono le migliori occasioni Sì, ma la migliore occasione allora! La bigliorpartia è iniziata allevare tre settimane fa! come tre settimane fa? tre settimane fa? si ma lei lo farà tre settimane? si tre settimane e perchè non abbiamo cominciato tre settimane fa? e beh perchè non ci abbiamo pensato oh si ci avevo pensato io ci abbiamo pensato? si io pure ma non abbiamo compilato niente e ora siamo con tre settimane di ritardo e siamo con tre settimane di ritardo si ma come sarebbe scusami ma nel senso che Natta ha cominciato tre settimane fa e per noi c'è il nostro primo tentativo ma che c'è? ma che Marta sta solo remando e certamente era una immagine Natale ci stava un bello di fragilità e chiuso non sapeva che fai si sei convinto che Marta sia solo remando e che non dubite le fermate beh remando era un sacco di piacere il remando e tra noi per i nostri piacere siamo con tre settimane di fare non credi che le dobbiamo recuperare? quanto tempo perci che ti serve per farti sciogliere? è appena raffino di peli per cinque ah eh mi ricordo tu non credi che siamo con tre settimane di ritardo ma fra un po' le settimane diventano quattro e se Marta dovessi tornare certamente non immagino che l'ha fatto un due non è successo niente eh ma non tornerà presto? ma che c'entra? ma che c'entra? direi ma non e non ci saperebbe andare a casa ma si però hai capito come si fa ma lei lo sa benissimo come si fa è molto più brava di quello che pensa ma non lo spero proprio guarda non tornerà presto qui da dentro sei sicura? naturalissimo allora mi sbaglio ma ma potremmo mangiare qualcosina? mangiare qualcosina? sì ma lei mi ha detto che non mangio prima qualche cosa ma non c'entra un bel uomo no no pensavo come una terapia che fosse stretta in questo tipo di situazione e forse non sono tanto esperto eh ma non c'entra nulla beh io non lo so non c'entra un genetico ma la porchetta ah ok ma la gire dei geni stai racconto ormai no? non c'entra cosa capite che sta porche ma va bene si andiamo bene non c'entra una cosa cosa sta porche ma guarda vediamoci un po' di questo vado vado ecco buono super sono la nostra vicinosa del quartiere alla quince su c'è sì 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 come ti faccio la vista vicinosa? eh perché io? io sono la fortiera sempre vicina vicinosa 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 o bussando. Capito? E se ne vedo la Vicenza, voi dite, sì? Oh, oh, vedendo la Vicenza di tezza medica. Eh, eh. E le faccio vedere se li hanno perché tu, ma non ci fa crescere, ma ci fa violare. Paragon, ma... Pa, ciao, bravo, gioco, papà, sei. Bravo, Paragon, bravo, bravo. Oh, va, va, va. Ma ascoltate, ma, ma, potremmo sapere che siete venuti a fare qua? Voi, qui, vodono, vanno, vanno, io sono una bordiera, mi sono tre, vengono, 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 vengono io ho un giaccio di soli e qui lì e la signora è sotto le coppia e la signora è sotto le coppia e non ho capito voi sapete tutto che le coppia signora è sotto le coppia e la signora è sotto le coppia e bella che faccio salutare io io sono la portiera vigilante e io devo guardare lo scicutare dello seppare ma già andrei qua ma non fa parte della professione ho capito e secondo me per il denaglia io sono sbagliato no 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 io non sbaglio e voi non stanno impegnati con un impegno che gli tiene impegnato fuori a casa ma stanno impegnati con un impegno che gli tiene impegnato in casa basta comunque stiamo portando Maradona a fare i partiti sui qua nel campetto qua fuori allora ho detto a tutti quando stiamo arrivando in mezzo al campetto con l'altra parte dei campetti è arrivato Vito Bull allora Maradona si è fermato poi Vito Bull si è lanciato ma Maradona ha fatto un riprido prima a presto poi a sinistra e ho Vito Bull la via non faccio male e il Maradona si è fermato al centro del campetto e ha fatto una spercata e con una rodesciata colpito in pieno lo pavento la spercata ma che è? la spercata la cacà la cucù come i demoni? ma mi troppo bella una bella rodesciata e comunque in quel momento facevamo questa passeggiata la radona un certo lungo ho sentito del mondo non si è venuto a muovere non capito ma ditevi una cosa signora quante andrà? eh? il signor è venuta una paresca che stanno facendo? che stanno facendo? ci sta ci sta un ladro qua dentro? eh? ci sta un ladro qua dentro un ladro? ma quale ladro? io sono qui sola ma che cosa? io sono qui sola vedete? se ne sicuro non ci sta un ladro? ci hai capito di sali sulla